Manu, c'è una cosa che a me piace e a te no. Le novità del mercato fotografico. E questa è quella puntata, ragazzi. Mettiamoci comodi. Sigla. Bentornati. Ma. Ma. È un buon lunedì? Per me no, per voi spero di sì. Per me lo è. Oggi, ragazzi, è quella puntata. Un bel riassuntone. Benvenuti nel mio mediamente primo... La mia prima mezz'ora ogni mattina qui in studio. È tendenzialmente sempre come questi prossimi 20 minuti. Esatto. Oggi, ragazzi, parliamo di tutto quello che è uscito sul mercato, delle grandi novità di questa settimana e mese, e soprattutto lo commentiamo in una maniera un po' diversa. Cioè, io, lato tecnico, è un pochino rompicazzo. Manu, un po' più pazzarello. Io sono l'outsider che commenta. Vi ricordo, come sempre, che se ci state ascoltando dovete immaginare. Ma se ci state guardando su YouTube, invece, potete anche assistere e vedere con noi queste grandi novità. Per forza. Io, Manu, vorrei partire da qualcosa che potrebbe essere molto combattuto. La Z30 di Nikon. Pazzesca. Cioè, proprio... Ma poi il claim, lasciati ispirare, ispira gli altri. Ispira gli altri. Secondo te, quale fotografo passato poteva comprarsi questa macchina? E perché proprio Cartier-Bresson? Perché è una macchina discreta, piccola, che non dà nell'occhio e di conseguenza ti permette di essere invisibile mentre scatti. Ok. Eccoci qua. Ma di brutto. Questa, ragazzi, è la nuova Z30 di Nikon. Questa macchina APS-C che possiamo dire essere rivale della ZV-10 di Sony. Sì, assolutamente. Dopo l'uscita dell'R7 e dell'R10 di Canon, che non c'entrano niente perché sono un po' più pro rispetto a questa macchina qua, questo è un bel tentativo di Nikon secondo me di corpire un pubblico a cui non frega un cazzo di Nikon. Cioè il pubblico dei... Questo è il mio parere personale che mettiamo una TV da parte. Sicuramente quello che si può dire è che se dovessi consigliare una camera per fare una streaming, per fare un vlog, eccetera, non consiglierei questa macchina. A me fa molto ridere, in realtà, che come nel 2022, una delle caratteristiche di punta sia monitor ad angolazione variabile. Monitor? Come puoi vederli sotto. Vlog come mai prima d'ora. Vorrei sapere che cos'è la differenza. Allora, ti dirò. Vai. Tra tutte le camere che sono uscite, penso, negli ultimi tre anni da parte di Nikon, io penso che questa sia la più intelligente di tutte. A parte, vabbè, la Z9 che gioca una partita a parte e non c'entra nulla. Perché tanto le... Ma bella questa immagine. Alza la posta come vlogger. Ma in che senso, secondo te? Vabbè. Va bene. Va bene, Nikon. Tutto a posto. Però, almeno, è un'opzione. Ti hanno dato un'opzione. Assolutamente d'accordo. Preferisco questa, la Z50. Esatto. Se avessero trovato le manuele di mare di due anni fa, che aveva bisogno di una camera per i video su YouTube, e aveva la Z6, avrebbe preso questa e non la 6100. Esatto. Ah, finalmente, tra l'altro, Nikon ha capito come si fa un monitor che gira, ragazzi? Perché l'altra volta aveva fatto che andava in sotto. No, no, perché praticamente non avevano ancora trovato dove erano i progetti per farlo così. Avevano usato tutte le cerniere per fare le porte degli uffici e non riuscivano più a farle. Quindi hanno deciso di farle qui. Però ti dirò, non è brutta. A me non dispiace, sinceramente. A me sembra una fusione fra una Canon RP, una 6000 di Sony, e... Boh. Cioè, comunque non sembra una Nikon, vista da dietro. No, non sembra una Nikon. Sembra più una Sony, paradossalmente. Esatto, è molto, molto Sony. Secondo me hanno un pochino snaturato... Secondo me hanno fatto bene. Hanno capito cosa dovevano piantare di fare. Ovvero quelle cagate, tipo la Z50. O la Z5. Z5 forse è peggio dalla Z5A. Diciamo che faceva una gara, chi facesse più schifo, quelle due camere. Sicuramente la cosa per me molto interessante è che, in primis, il mercato del vlog è quello che spinge di più di tutti in questo periodo. Basta vedere R7 ed R10 di Canon, basta vedere questa, basta vedere Sony, che sicuramente a settembre, ottobre potrebbe lanciare addirittura un'altra serie ZV. Insomma, questa roba spinge. Ora però Nikon ha un problema enorme. In primis le lenti. Questo è il suo parco lenti di APS-C. Ce ne saranno sei, forse. Non lo so, forse ce n'è qualcuna di più, ma magari mi sbaglio. Impossibile pensare di usarla con l'adattatore, perché in video, per quanto adatti, sappiamo tutto. No, ma poi perde comunque il senso della camera. Una camerina così e poi ci monti una bestia così davanti. Però questo effettivamente è qualcosa che potrebbe essere interessante. Anche lei, modalità diretta, questo è il suo treppiede, quindi controlli che è tremendo. Sembra uno di quei telecomandi dei ventilatori da 5,40€ su Wish. Io in realtà ho notato una cosa molto più bella. Cioè? Il MacBook Air, quello piccolo, quello vecchio di 35 anni. Io penso che non si veda in circolazione da almeno sei anni. Sai perché? Perché è connessa con un cavo USB di tipo A e non USB-C. Guarda qua. E soprattutto, quanto sono brutti queste due cose? No, sono carini, sembra un coniglietto. Mi piace. Va bene. Ok. Comunque, questo è effettivamente l'uscita della Z30. Secondo me l'unica roba positiva è il costo, che dovrebbe essere intorno ai 625€ solo corpo. Bene. Secondo me questa è la vera arma che hanno tirato fuori. Tuttavia, boh, non lo so, non sono iper convinto. Io me la collo, secondo me può andar bene. Mi piacciono molti gancetti che hanno messo, che sono come quelli dell'Efe X3. Guardala, non è brutta. A me però non sembra una Nikon, sembra una Nikon segata a metà. Ma meno male, ma meno male. Ma perché era bella la Z50? A me le Nikon non dispiaccio. Era bella, faceva vomitare quella roba lì. Va bene. Ok, non ti incazzare però. L'altra cosa invece di cui vorrei parlarti, Manu. Prendo una notizia a caso che ho qui aperte. Vabbè, facciamone veloci due. Blackmagic ha aggiornato la 6K. Me ne frega. Non te ne freghi niente, ma ha aggiunto questo mirino sulla 6K normale. Bellissimo, sembra... mi ricorda un Pokémon? Non mi ricordo il nome del Pokémon, però mi ricordo un Pokémon. Va bene, se te lo ricordi lo mettevo in sovrimpressione. Ah, Nikon l'ha portato anche il 400 mm. A me ne frega del 400 mm. Ma cosa cazzo devo fare le foto alla vicina mentre si fa la doccia? No, da qui prendo le distanze da questi... Siete tutti dei porci. Ma la Z30 assomiglia alla FX3? Minchia. Aspetta un attimo. Guardala. Porca troia, è identica. Porta, vedi, vedi, vedi che te l'ho detto che... Ci sta, vabbè. Volevo portarti invece alla luce questa roba tremenda che Zhiyun ha lanciato insieme il giorno stesso che DJI... Un plug anale. Lo stesso giorno che DJI ha lanciato il Ronin, Zhiyun ha lanciato questo. Loro hanno lanciato un cambio per l'automobile. Praticamente hanno preso un motorino scassato, rubato. Ma cos'è questa roba qui? Ma è agghiacciante questa roba. Cioè hanno fatto questa maniglia perché per loro, guarda qua, per loro sembra... Non lo so cosa cazzo è. Cioè, boh, sembra il cambio dei reshow. È presente quelli con cui vedi i minicci? È tremendo. È veramente una delle cose più brutte che io abbia mai visto. Cioè, sembra se tu... Io penso che sia effettivamente un motorino del futuro, Betz. Allora, adesso vi faccio una promessa che faremo a fine anno, ovvero le peggiori uscite dell'anno. Questi video qui verranno raggruppati in un unico video delle peggiori uscite. Questo, a livello di design, è da denuncia penale. È inizia probabilmente nella top 3. Se lo state vedendo, ragazzi, c'è questa sorta di manico che parte da un sellino. Betz, se questa roba fa, lo trasformano e lo fanno a sospensione magnetica e la moto del futuro. Io non capisco. Sai i rumors che dicevano che Apple avrebbe fatto la sua macchina? Beh, Zhiyun sta facendo il suo motorino. È tremendo, ma lo sanno che si possono fare anche belle le cose? No, non lo sanno ancora. E tra l'altro, per dimostrarti questa roba, vorrei andarti a recuperare una roba che sempre Zhiyun ha lanciato, che ora ti voglio trovare, perché è tremenda. Cioè, hanno preso... Hai presente le loro luci normali? Ok, sì. E ci hanno fatto una luce gigante. Voglio fartela vedere. Voglio che tu guardi il video. Guarda il video, eh. Ti metto... Se riesco, volevo metterti anche un po' di volume. Eccolo. Guardalo. Ma bello questo schermo. È lo schermo degli Zhiyun. È lo schermo del gimbal, quello, lo stesso. Ma perché gli erano avanzati palesemente dei pezzi e dovevano un attimino riciclarli. Guarda che belli che sono. È agghiacciato. È bruttissimo. Guardala, guardala. Sembrano i lampioni che metti in giardino. Voglio fermarmi con questa scena qui alle spalle. Io... Sono... Ragazzi, non so nemmeno come spiegarvi. Ma che cazzo servono? A che cazzo? Non sono neanche dei tubi LED. Ma cosa serve sta roba qua? Sono agghiaccianti. Vabbè. Da denuncia. Comunque, brava Zhiyun... Sommelier della merda. Complimenti. Salutiamoli. Ci seguono sempre. Grazie per l'ennesimo gimbal per smartphone che mi avete inviato. Vabbè, adesso questo è veramente da bastardi dirlo. Comunque, mentre appunto DJI faceva uscire gli RS3 che abbiamo visto, ha apprezzato tutti i quanti. Esatto. A me la cosa che in realtà aveva affascinato di più è che le terze parti stanno spingendo come dei mostri. È una roba allucinante. Cioè, Tilda ha lanciato persino il coso... Questo se a me ti piace? Ha lanciato un coso per montartelo sulla macchina. Questo. Aspetta, tutto col braccio. Puoi comprarti questo. L'Hydra Arm Mini. Tu te lo vedi in loggie armato così. Ma comunque, se arrivo qui ci fa alci la gente per strada, ma è pericolosissima. Vero che è figo, però. Appartemente, Tilda... Però, finalmente, con questo Ciccio Gamer può fare i vlog mentre guida, senza rischiare di fare un incidente. Forza. Non lo so se Ciccio lo può usare, però è veramente figo che abbia dato la possibilità di comprare un oggetto del genere. Non so quanto costi questa roba, però è veramente molto molto figa. E effettivamente ci vedi, cimonti l'RS3. E' bello, eh? Tanta roba questa. E' molto bello. Quanto costa? Eh, sai che non riesco a trovare un costo. Cioè, non l'ho ancora trovato. Posso cercare, posso fartelo sapere via messaggio. Vediamo un po'. Via messaggio. Letteramente siamo qui tutti i giorni, tutto il giorno. 10.000 euro. Vabbè, si può fare. Ne compriamo due. No, dobbiamo comprare Bolt. Senti, a parte, tra l'altro, non lo dirò. Sai perché non lo dirò? Perché non voglio che qualcuno mi scopra, ma forse ho trovato un robot che ci possiamo permettere. Emilio è meglio. Emilio è meglio. Forse quello è l'unico che ti possiamo permettere. Possiamo fare, può apparire a schermo un'immagine di Emilio è meglio con un FX3 in mano? Perfetto, mi piace. E' il nostro prossimo dipendente. Aveva il vassoio con l'FX3 appoggiato. Che entra qua davanti, così. Bellissimo. Sempre di questa roba qua, so che te ne frega meno di niente, però secondo me è molto interessante pensare a come un'azienda possa influenzare altre aziende in maniera indiretta. Ok. Dizio, che è questa azienda che fa lenti cinematografiche, ha introdotto una serie di obiettivi, cioè un 35, un 50, un 75, che sono full manual perché sono lenti cinema, ma praticamente tu puoi connettere il sensore LiDAR del Ronin, che quindi ti traccia l'iDAR come l'iPhone, alla lente e avere quindi la lente autofocus comandata da questa roba qua. Farla direttamente autofocus era troppo complesso? Sì, perché costa veramente tanto fare delle lenti autofocus. Mentre così, tu gestici tutto da questa roba qua. Pensa a se le aziende lavorassero di più insieme, come fa un po', prendi Leica con gli smartphone, che fanno co-engineering, cosa potrebbero fare effettivamente se tipo DJI lavorasse con Sony per potenziare le funzioni? Cioè, quante cose fighe potrebbero nascere se le aziende collaborassero di più nella creazione di prodotti? Tipo se Insta360 lavorasse con GoPro e gli facesse le fotocamere direttamente? Questa non ci avevo mai pensato. È interessante come visione. È molto molto interessante. Ci sta. Noi ti diamo solo tanti pezzi e tu me la fai per me. È tipo come se Panasonic lavorasse con Sony per avere un autofocus buono. Ci sta, mi piace, mi piace. È una bella visione. Se Nikon lavorasse con Sony per avere un comparto video esistente. È come se tutti i PC Windows lavorassero con Apple. Per funzionare. Per smantellarsi. Salutiamo ovviamente Microsoft, che ci segue sempre. Voglio invece andare in un reparto luci. Bellissimo, bellissimo. Reparto luci, abbiamo Nanlite, dal quale stiamo pensando. L'ennesimo faretto del cazzo. L'ennesimo faretto da un 300 bicolor. Letteralmente quello di cui c'era bisogno nel mondo. Molto vero. Tra cui, non te lo faccio vedere adesso, ma anche Godox lancia il suo 300 bicolor. Che salutiamo calorosamente. Godox, grandi amici. Tra l'altro questa luce qua che ci sta illuminando è di Godox. Godox, possiamo dire che con gli amici di Godox, grandi cene e banchetti. Pensa che una volta ero a un tavolo, c'eravamo io. L'amministratore delegato di Godox. Bill Gates. E Mattia Cappelletti. E a un certo punto, Mattia Cappelletti fa, qualcuno mi sta toccando la coscia. Non eri tu. Quel qualcuno. Non lo direi. Andiamo avanti. Non te lo posso dire. Comunque, al di là di questa patuta corinomica, voglio invece passare a una cosa che ti interessa molto. Capture One arriva su iPad. iPad. Io lo sto provando da due mesi in beta. Esatto. Tanta roba. Veramente figo. Personalmente mi sta piacendo molto. Tre funzioni che hai trovato incredibili. Una che sembra una cazzata enorme, ma in realtà è una figata enorme, soprattutto per quando lavori con l'iPad. Ed è quella rotella che vedete a destra, che fondamentalmente non è altro che gli slider di Lightroom. Ok. Quindi tu selezioni l'impostazione a sinistra, ti compare la rotella dall'altro lato, puoi personalizzarla come vuoi, e quindi ruoti col dito. È una figata incredibile. Ok. Perché ti permette appunto di lavorare con l'iPad esattamente come nella foto sopra, cosa che lo rende molto più comodo, soprattutto magari con quelli molto grandi, dove è difficile. Che è pensato per iPad, non è un riadattamento. È pensato totalmente per iPad. L'ordine delle funzioni è molto più comodo e preciso e soprattutto sfrutta i due lati del dispositivo. Ok. Quindi da un lato ti dice l'impostazione e dall'altro lato ti fa comparire il menu al dettaglio. 4,99€ al mese costa, ci dicono, con mille foto di cloud disponibili. Sì, dovrebbe essere gratuito, ma c'è soltanto la questione appunto dello storage che dipende. Invece il che non mi è piaciuto è la gestione appunto di questo fantomatico storage che costa pure, che non è incredibile. Potrebbe essere molto più comodo. E figo. E in più, stando seguendo un po' lo sviluppo della beta e tutto quanto, dovranno aggiungere nei prossimi aggiornamenti anche la possibilità di fare il tethering. Da iPad? Sì. Bello. Quindi invece di dover girare come un cretino ogni volta col Mac e quant'altro, io posso girare con l'iPad e questa cosa qui è veramente una figana. È molto interessante. Per esempio per me che ho l'iPad Pro da 12 a 9 con l'M1, che ha uno schermo clamoroso, poter far vedere ad un cliente in presa diretta le foto, così è tanta roba. Sì, molto. Sono contentissimo in realtà di Capture One, perché secondo me Lightroom è migliorato molto nell'ultimo periodo. Secondo me con l'introduzione delle maschere e questa nuova modalità di modifica dei video si sono fatti dei bei passi in avanti. Le maschere sono state una roba che ha cambiato Lightroom da così a così sul mobile, soprattutto perché Lightroom è anche su iPhone e secondo me è una bomba questa roba. però effettivamente, sempre il solito discorso che abbiamo fatto diecimila volte su tutti i software, mancano software professionali su iPad e questo è un primo passo per fortuna di qualcuno che decide di investire un po' di più su uno strumento che è figo. Perché altro facendo una versione dedicata ad iPad, quindi proprio pensata per sfruttare la macchina al pieno potenziale. Perché proprio dal primo momento in cui lo apri ti rendi proprio conto che le cose sono disposte per essere su iPad, non avere la pencil, non avere la tastiera, proprio sono pensate per lavorarci con le dita. Questa roba è fighissima. Meno male, sono molto contento perché... Gli mancano ancora tante cose, non è completo come la versione desktop, gli mancano un po' di cose, però vedendo come sono partiti mi sembra che l'intento ci sia, perché è molto professionale come programma, mentre Lightroom è molto pop, potrebbe impararlo a usare chiunque. Questo secondo me ci tiri qualche bestiaire in più. Ok, va bene. Lo scopriremo. Siamo curiosi di sapere i tuoi update. Ci aspettiamo un video sul tuo canale a un certo punto? Prima o poi arriverà. Ok, ottimo. Voglio invece passare, Manu, a un piccolo update matto che non so se hai seguito, ma è uscito l'update del nostro Laowa. Che hanno fatto una roba che secondo me è interessante. Perché cosa hanno fatto? Hanno migliorato il Laowa, ma gli hanno aggiunto la possibilità di staccare mezzo obiettivo e sostituirlo con un altro mezzo obiettivo che invece è fatto così, vedi, è tipo un periscopio. Infatti si chiama Periprobe. Bravo. Sei perspicace, vedo che sai leggere. E la cosa figa è che appunto tu puoi quindi montarlo così. Però funziona solo sulle sedi da quel che vedo. Sì, non so perché Laowa continui ad avere la sedi con la macchina. Ti voglio fare però una domanda. Come potremmo usarlo? Una roba del genere. Perché io ho visto un po' di utilizzi ed effettivamente è molto figo. Ma voglio scoprire tu come... Beh, anziché mettere la camera in zenitale, ad esempio quando devi fare dei B-roll ad un piano, puoi farlo adesso con la camera dritta, tranquillamente e senza problemi. E non tirare infinite madonne per metterla in zenitale. Io l'ho visto usare, ad esempio, in un video che ho beccato in giro. Vabbè, loro lo usavano sul bolt, eccetera. Ma la posta di mettere la camera dritta che si infilava fra le cose, la camera stava su ed era solo l'obiettivo che praticamente girava intorno. È molto figo. Cioè ti cambia completamente forse il concetto di come predisponire le cose. Ma la cosa su cui mi ha fatto riflettere, in realtà quella più interessante che voglio portare anche a te, è che bello è quando compri delle cose. Ne abbiamo già parlato anche nel podcast delle action cam. Compri delle cose che in futuro puoi upgradare, cambiare, modificare, avere delle cose in più che fanno la differenza, no? Sì, che non hai quella tremenda sensazione dell'essere stato abbandonato da un brand perché è uscita la nuova versione e dici, suca, compra la nuova versione e spendi altri soldi. Esatto. È molto bello, mi piace molto. Io ho questo feeling con gli aggiornamenti software. Ogni volta che escono degli aggiornamenti grossi che cambiano tanto un prodotto, io un pochino godo e mi bagno. Allora, oggi abbiamo fatto questa roba qua, non so se è ancora uscita questa puntata, ma se è già uscita tutta, ma oggi ho fatto effettivamente un brief per un aggiornamento software molto grosso di un prodotto. Ed effettivamente è stata proprio una bella sensazione. Cioè, non sentire che il prodotto che hai è già vecchio, ma che con un aggiornamento software cambia tutto, no? Ti dà la sensazione di avere un prodotto nuovo. Esatto, esatto. Cazzo, è bellissimo. Le poche sensazioni che ho così sono quando esce iOS 16 o comunque l'iOS nuovo. Esatto. E non iPadOS perché è impossibile aggiornarlo decentemente, quanto pare, però va bene. Ci accontentiamo. Impossibile non dissare iPadOS sempre. Mi spiace in realtà perché è rosico, perché vorrei fosse molto di più, però vabbè, questo ne abbiamo già parlato. Ai posteri ritornerà l'ardua sentenza. Non era così, era ai posteri l'ardua sentenza. Eh, ma adesso apparentemente sono le vacanze estive, quindi quando tornano, quando non si può fare. Giustamente sono tutti quanti a fregene in vacanza. Non penso proprio. In realtà abbiamo finito le novità, Manu. Bel mese di merda, posso dirlo. Questa è l'estate, ragazzi, un periodo dove non esce niente. Ma invece l'inverno è bello. Eh no, e qui invece ti volevo, voglio lasciare e lasciare soprattutto il nostro pubblico con una domanda. Che cosa ci aspettiamo dal ritorno delle vacanze? Per chi ho un pochino di cosine, secondo me, stanno per arrivare. Io non mi aspetto nulla, non so, sinceramente. Io sto bene con quello che uso adesso. Eh, secondo me, R5, A93, Platosoni. Non far partire degli audio che tanto non li sentono. No. Tu. Io. Che cosa vorresti? Una birra. Ma no, no, adesso. Cioè, nel mercato. Ma in realtà io sto molto bene così. Non ho particolari esigenze. Almeno con le fotocamere no. Io adesso sto usando la 7.4, mi trovo molto molto bene e faccio anche fatica. Vorrei la 7.4 ma col sensore della M11. Bello. Se mi fanno questo, per quanto mi riguarda, posso anche smettere di produrre. Se la R5 fosse quella roba lì? Ecco. Abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Il mio portafoglio è un problema. Il mio pisello ha un problema. E' uscito anche questo qua, versione 2. Ma me ne frega. Ma cosa me ne frega? Sono dei tasti per far partire sti cosi. Ma me ne frega di questo coso qui, versione 2. Vabbè, è uscito anche quella lì, versione 2. E basta. In realtà è un periodo triste, effettivamente. Del mercato mi abbiamo cercato di riassumere le notizie più interessanti, tutte quante, in una sola puntata di Messa Fuoco. Che è il podcast più... Lunedì. Con questa puntata di Messa Fuoco annunciamo anche le nostre vacanze. Scherzavo? No, non è vero. Non è vero, ma non è assolutamente vera questa cosa qui. Ci continuerete a sentire, ragazzi, per tutta l'estate. Mi raccomando, non mancate mai. Messa Fuoco torna lunedì prossimo alle 7 del mattino. Come sempre, ragazze. Cereali, latte, Messa Fuoco. La colazione dei campioni. E anche un bel Negroni. Beh, non ho mai visto nessuno non fare colazione con un Negroni, quindi... Esattamente. Chiaramente fateci sapere nei commenti cosa vorreste vedere, quali sono le vostre necessità. Cosa vorreste che il brand facesse... Sondaggio matto. Novità del mercato. Siete interessati? No. Preferisco... Preferisco. Preferisco. Vi ricordatevi di seguirci su Instagram, di farci sapere dove ci state guardando. O ascoltando. Mi raccomando, se siete al volante, ascoltateci solo. E non guardateci. Ma fate una storia. No, però, fermatevi in una piazzola di servizio per fare la storia. Non fate storia al volante, ragazzi. Mi raccomando. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati fin qui. Niente, lunedì anche per me, ragazzi. Io mi ritiro. Grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto. Ci vediamo lunedì prossimo, ragazzi. O ci sentiamo. Ah, anche sì, ci sentiamo. Ciao. 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 Grazie a tutti.